Spuntare la casella Osservazione di tracce. Apparirà la linguetta Osservazione di tracce in alto. Cliccando su di essa apparirà la relativa maschera. Al suo interno devono essere inseriti solo i dati in possesso, cioè quelli riportati sulla scheda cartacea. In caso di informazioni mancanti, lasciare i valori già presenti nella scheda. Nel nostro caso, le tracce sono state osservate su neve. È stato avvistato un unico individuo. La casella traccia singola va spuntata solo nel caso di un'unica traccia avvistata. Oltre alla traccia, sono stati rinvenuti anche dei peli e delle feci. Questo però non implica che i campioni siano stati raccolti per future analisi genetiche, a meno che non venga espressamente specificato. In tal caso, è infatti possibile inserire il numero di campioni desiderato, indendendo con campioni qualsiasi campione biologico raccolto per analisi genetiche. Per inserire un campione, selezionare la tipologia dal menu a tendina. Digitare il corrispondente codice riportato sulla scheda di campo e sull'etichetta del campione raccolto e cliccare sul pulsante più. A questo punto, il campione sarà stato inserito e apparirà nella tabella in basso a sinistra. Analogamente si può procedere per tutti gli altri campioni. È possibile rimuovere singolarmente i campioni inseriti cliccando il pulsante meno. Per confermare i dati inseriti, cliccare su Salva modifiche.